buongiorno buongiorno amici di moto benvenuti in questa nuova video recensione oggi parliamo dello small parts organizer di enduristan di cosa parliamo lo small parts organizer è una comodissima borsetta che l'enduristan ha sviluppato per chi come me ha bisogno di portarsi in viaggio tutti accessori elettronici gopro drone hard disk adattatori cavi cavetti gps e uno non sa mai dove metterli o anche se rimette poi si riscorda praticamente qui dentro avete tutto parliamo di una borsa resistente all'acqua dove all'interno troviamo sette tasche con chiusura zip abbiamo la prima la seconda la terza la quarta la quinta la sesta e la settima per cosa la sto usando allora abbiamo il reparto drone dove io in questa parte tengo carica batterie del drone carica batterie da auto moto quindi con accendino sempre per le batterie del drone qui dentro teniamo su questa tasca lab di ricarica sempre del drone batterie poi varie schede di memoria un adattatore questa è la parte forse che preferisco di più abbiamo questo interno con 53 occhielli di sette dimensioni diverse che io amo in cui praticamente andare a mettere tutti i cavi che noi interessano in questo caso cavi di ricarica del gol della gopro del dell'hard disk esterno qui un cavo audio video sempre per la gopro poi qua dentro sto tenendo le batterie della gopro 9 della gopro 7 e poi abbiamo su quest'altra tasca tutti una serie di adesivi sempre per gopro vari supporti possono servirci un cavo di sicurezza sempre per largo pro viene tutto organizzato in scomparti e poi diventa molto facile tutto da poter riporre e ma soprattutto diventa funzionale poi nel poterlo riusare perché anche se noi li mettiamo così viene chiuso con molta facilità perché la borsa è abbastanza morbida la possiamo inserire in valigia dentro lo zaino e abbiamo tutto organizzato qua dentro abbiamo una parte che anche scrivibile su su questa zona a livello di dati tecnici a un volume di due litri con delle dimensioni di 20 per 15 per 8 cm nella sua parte più grossa che dire io lo consiglio a chiunque in viaggio o in giro in generale ha bisogno di portare tutta attrezzatura elettronica e vuole tenere tutto organizzato in questa comodissima borsetta che l'enduristan ha pensato proprio per noi motociclisti in cui praticamente tutto ciò che si può mettere si mette si evita di portare borse rigide per ogni singolo accessorio quello per la gopro questo per l'osmo e chi più ne ha più ne mette abbiamo tutto organizzato qua dentro posso inserirlo facilmente via ce lo dimentichiamo ve la consiglio se dovete partire se volete tenere tutto organizzato e siete manieci della perfezione come me ma soprattutto se non volete incavolarvi a cercare i vari cavi sullo sito enduristan.it trovate tutte le informazioni per comprare lo small parts organizer ci vediamo alla prossima recensione buona giornata ciao